Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sulle ultime features di Tableau rilasciate con la versione 2022.2. In questa ultima versione c'è una nuova lingua disponibile, che è il francese-canadese. Ne approfittiamo quindi in questo video per ricordare come cambiare l'impostazione della lingua su Tableau Desktop, ma anche su Tableau Online o Server e su Tableau Prep. Vediamo quindi come fare. Mi trovo ora nella pagina iniziale di Tableau Desktop e una cosa da tenere a mente quando si decide di cambiare lingua è che Tableau chiuderà il workbook attivo per poi riaprirlo, quindi è consigliabile cambiare le impostazioni della lingua all'inizio del lavoro. Per cambiare lingua è molto semplice, basta andare su Guida, seleziona Lingua qui in basso e poi si aprirà appunto un elenco di lingue disponibili. Al momento è selezionato Italiano, immaginiamo di voler cambiarlo con l'inglese United States. Il workbook si è chiuso, tra qualche istante si riaprirà e vediamo appunto come le impostazioni della lingua siano state modificate. Vediamo ora come andare a cambiare le impostazioni della lingua su Tableau Server. Per cambiarlo sarà necessario andare a selezionare appunto, posizionarci sulle nostre settings all'interno del profilo utente, per raggiungere queste settings però immaginiamo di tornare alla home page. Quindi dalla home page dovremmo selezionare l'icona del nostro profilo, quindi del nostro account, da qui troveremo My Account Settings, ci clicchiamo e dovremmo posizionarci appunto sulla tab Settings. A questo punto bisognerà scrollare fino in basso, fino a che raggiungiamo un'area che si chiama appunto Language and Region. Da qui si può selezionare la lingua, quindi anche qui aprendo il menu a tendina troviamo un elenco di tutte quelle che sono le lingue disponibili, tra cui anche l'italiano e poi anche l'impostazione locale. Vi ricordo che le impostazioni locali supportano anche setting specifici appunto alla formatazione, quindi si può selezionare il locale in un modo e la lingua in un altro. Più in basso invece troviamo le impostazioni relative alla time zone, quindi al momento io ho selezionato Europa-Roma. Per quanto riguarda l'ultima istanza, ovvero Tableau Prep, il processo per cambiare lingua è identico a quello di Tableau Desktop, quindi basterà andare a selezionare in questo caso Help, Choose Language e poi al momento ho selezionato inglese, ma posso anche decidere di cambiarlo in italiano. Grazie per l'attenzione e se vi è piaciuto questo video vi invito a seguire i prossimi sulle nuove release di Tableau. Grazie. 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 Grazie.